Presidente, noi presidiamo Campagna Amica, la rassegna delle produzioni locali, spingiamo sul chilometro zero e in realtà a fare molta strada è anche la criminalità nelle campagne. A che punto è la situazione? Il punto in cui eravamo, un punto drammatico dove abbiamo tutti i tipi di attività predatoria e non solo, non c'è una soluzione. Io credo che il territorio vada presidiato in maniera capillare, altrimenti non ne usciamo fuori. Intanto avete anche delle opportunità che vengono frenate, riferite per esempio ai commerci internazionali. L'aeroporto Ginolisa è ancora una palla al piede dello sviluppo di questa realtà? L'aeroporto Ginolisa è ancora una palla al piede come in tutti i territori, un territorio vastissimo che non è servito da voli regolari, faccia un po' lei sicuramente, credo che si capisca quanto possa essere deprimente per il territorio, sia sotto il profilo dell'agricoltura ma anche sotto quello turistico. Ma al di là delle elementazioni, un concerto di intenzioni istituzionali che dia una svolta? Noi abbiamo anche tra l'altro due assessori regionali che sono foggiani, abbiamo uno anzi le politiche agricole e poi anche quello al bilancio, insomma due assessori di chiave. Beh, io penso che ci voglia uno sforzo corale dell'intero territorio e dell'intera politica, non solo quello degli assessori ma anche di tutti i territori provinciali e comunali che facciano una voce unica nel coro. Arriverà questa voce unica? Ma secondo me sì. Grazie. Grazie. Grazie.